In ambito medico una fellowship è un percorso di training in cui un medico già specialista affina le proprie conoscenze affiancato da un team di riferimento. Io sono stato un fellow prima alla Duke University e poi a Baltimore negli Stati Uniti. Dai miei maestri ho imparato che la conoscenza non è un tesoro da osservare gelosamente ma un valore da condividere senza paura e con entusiasmo. Questa è la visione del mio programma di fellowship internazionale oggi presente anche in Italia. Oggi voglio presentarvi Claudia, è stata una mia fellow e ora lavora con me perché per insegnare prima bisogna essere pronti ad imparare dai propri allievi. Sono Federico Usuelli, chirurgo della caviglia del piede.